Salve a tutti, iniziamo con questa slide, perché è statisticamente provato che il 99% del pubblico in sala, dopo questo talk, inizierà a usare Bootstrap 4 con SAS, il restante 1% invece continuerà a usare Bootstrap 3, a lamentarsi e a usare le classi presentazionali. Io sono Carmine Alfano, faccio il web designer per Blacksign SRL e di tanto in tanto faccio lo speaker per le due community di cui sono anche cofondatore, .NET Campania e Webdesign Republic. Io appartenevo a quell'1%, mi lamentavo, usavo le classi presentazionali, sono uno di loro, sono uno di voi. Poi qualcosa è cambiato, ho iniziato a usare Bootstrap e a usarlo nella maniera corretta. Vorrei iniziare con una storia, questa storia parla di un supereroe, lui, Bootstrap. Bootstrap era figlio di Twitter, nipote di Blueprint e lontano parente di 960 Grid System, qualcuno che è un po' più anzianotto magari l'ha utilizzato. Chi è che l'ha utilizzato? Mi sento a casa. Allora, Bootstrap ci permetteva di fare delle cose fighissime, tipo trasformare le navigation bar in hamburger menu sugli smartphone, oppure utilizzare dei contenitori enormi come il Jumbotron, oppure andare sul sito ufficiale, copiare e incollare il codice e avere dei plug-in perfettamente funzionanti e cross browser. Non so voi, ma io per trovare la lightbox perfetta ci ho perso i migliori anni della mia vita. Questo nel 2009. Intera giornata a cercare i carousel, e quel carousel che non funzionava su Firefox. E poi andavi a vedere e ridimensionavi lo schermo e non ti funzionava nemmeno sugli smartphone. Quindi è arrivato lui, questo supereroe, lui mi ha salvato la vita, io gli devo tutto a quest'uomo. E questo qui era un grandissimo amico quando dovevi progettare il layout responsive, ma lo stesso non si poteva dire della semantica. Cioè in due minuti era in grado di sporcarti il codice incredibilmente con una serie, una marea di classi presentazionali. E l'avete fatto tutti, non potete negarlo. Poi qualcosa è cambiato, è cambiato. Le insidie per bootstrap erano sempre in agguato. Innanzitutto è apparso un nuovo supereroe là sullo sfondo che si chiama Flexbox, che sta lì dietro alle spalle, se la spassa e mentre là in fondo, in basso a destra, c'è il futuro rappresentato dal grid layout. E poi abbiamo il nemico storico sempre in agguato, che tra l'altro era già amico di Flexbox da parecchio, Zarp Foundation, e quindi il povero bootstrap si è trovato a un certo punto a scendere un po' a compromessi. C'era una marea di problemi in bootstrap 3. La proprietà float, classi presentazionali, è pesante fondamentalmente come framework, e quindi bootstrap ha deciso di farsi aiutare da un nuovo supereroe, SAS, il CSS con i superpoteri. L'ha letto anche sul sito ufficiale. Inoltre ha stabilito un nuovo patto d'alleanza con Flexbox e insieme a lui ha immaginato un nuovo sistema a griglia. Quindi, grazie all'aiuto di Flexbox e SAS nasce Bootstrap 4. Iniziamo con le novità globali. È stato rimosso il supporto a Internet Explorer 8, 9 e iOS 6. Questo perché Flexbox è stato abilitato di default. Nell'alpha precedente bisognava attivarlo attraverso una variabile SAS enable flex. Adesso non dobbiamo farlo più. È stato aggiunto un nuovo breakpoint che parte da display più piccoli di 576 pixel. È stato sostituito anche il foglio di Reset Normalize. In realtà è stato sostituito da Reboot che è una versione riscritta di Normalize fatta dal team di Bootstrap. Cosa cambia? Essenzialmente siccome quelli del team di Bootstrap sono un po' ciechi hanno aumentato il font size a 16 pixel rispetto alla versione precedente che era 14 pixel. Laddove è possibile l'unità di misura primaria è espressa in RAM e inoltre sono stati ottimizzati i margini su titoli e blocchi di terzo. Vabbè chi se ne frega più di tanto. Però la novità più importante riguarda magari la gestione del border box che è stata attivata su tutti gli elementi e le classi sono più facili da sovrascrivere perché in alcuni casi viene utilizzata la proprietà Inerit. Inoltre passiamo alle novità che riguardano i components partendo dalla Nowbar che non si attiva di default sul breakpoint per smartphone XS ma viene attivato attraverso delle classi presentazionali attraverso la possibilità di scegliere su quale breakpoint far collassare far sparire la Nowbar Alcuni elementi sono stati deprecati tipo thumbnails wells e panels che vengono sostituiti da un unico elemento che si chiama cards insomma erano contenitori fondamentalmente che adesso vengono sostituiti da un unico contenitore inoltre è stata rimossa la libreria di default la libreria di fonticon glificon non sarà più presente nel nuovo framework e questo sia per snellire un po' il framework sia perché comunque chi è che utilizzava glificon io sinceramente quasi mai anche perché la prima cosa che facciamo è vedere anche in base al design quale tipo di libreria di fonticon dobbiamo utilizzare e adesso vediamo a un cazzotto nello stomaco almeno per me perché sono state implementate nuove utilities tipo la gestione dei padding attraverso classi di presentazione qualcuno tra il pubblico lo faccio anche io però c'è nel framework quindi ne parliamo perché abbiamo la possibilità di gestire attraverso queste classi presentazionali i padding in base al breakpoint e i margini quindi avremo un codice ancora più sporco avremo anche la possibilità di allineare il testo sempre in base al breakpoint e la classe text left text right non sarà più presente ma avrete una serie di classi del genere stesso discorso per pull right e pull left che applicavano un float right e un float left che sono state sostituite da queste classi qui che vi allineano gli elementi sempre attraverso la proprietà float però in base al breakpoint veniamo alla diciamo forse novità più importante che riguarda questo gruppo di classi che riguarda la proprietà hidden la classe hidden non abbiamo più hidden breakpoint ma avremo hidden breakpoint up o down quindi applicando per esempio hidden xs down ed hidden lg up stabilisco un range per visualizzare quell'elemento solo su small ed md quali sono invece le novità che riguardano i breakpoints in bootstrap 4 abbiamo la extra small medium large ed extra large come breakpoint viene aggiunto quindi un col xl che in realtà se guardiamo questa tabella comparativa ci rendiamo conto che non è una classe che è un breakpoint per display molto grandi ma in realtà va a sostituire col lg po' poi abbiamo large che corrisponde alla vecchia medium ed extra small che non ha il break su 7,68 ma su 5,76 facciamo un piccolo riepilogo sul funzionamento del grid system di bootstrap 4 per introdurre il discorso sul nuovo grid system abbiamo tre elementi container raw e call container serve per diciamo creare dei contenitori può essere anche un contenitore centrato o un contenitore a tutto schermo come container fluid raw rappresenta la riga e poi abbiamo le call che vengono individuate da una classe che inizia sempre con call breakpoint e un numero che ne identifica la dimensione quindi 6 call md6 sta per 6 dodicesimi di una riga ogni riga può contenere al massimo la somma di 12 colonne ciò significa che ogni colonna che supera la somma di 12 andrà a capo per creare dei layout più complessi posso ricorrere magari alla tecnica del nesting ovvero innesto delle colonne dentro altre colonne in questo caso sono 18 colonne perché sono divise in due col da 6 e ogni col ha 9 colonne per ciascuna facciamo un quiz allora dobbiamo realizzare tre colonne uguali quindi inserisco la classe col small small 4 su tre colonne invece se volessimo realizzare un layout a tre o cinque colonne cioè a cinque o sette colonne che classe devo utilizzare senza ricorrere al nesting o a qualche trucco in bootstrap tre non c'è la possibilità di gestire cinque o sette colonne ma nemmeno otto se pure utilizzassimo la tecnica del nesting non otteneremo comunque cinque o sette colonne uguali quindi con bootstrap 4 e con il modulo flexbox alle spalle abbiamo la possibilità di utilizzare la classe col per creare delle colonne che si adattano in automatico allo spazio disponibile facciamo un altro quiz abbiamo una colonna identificata da col 6 quindi è grande 6 dodicesimi di una row e due colonne con la classe col col significa occupa lo spazio che trovi a disposizione mi sapete dire in questo caso il valore non espresso non dichiarato su queste due colonne qual è? 3 ok e in questo caso 2 questo la risposta dovrebbe essere 1,5 ma questo con bootstrap 3 non era possibile e questo era un altro limite del framework invece attraverso flexbox abbiamo la possibilità di definire una colonna e stabilirne una dimensione e invece con lo spazio restante abbiamo la possibilità di far decidere a flexbox quanto spazio occupare in base al numero di colonne che andiamo poi a inserire inoltre ho la possibilità di far adattare le colonne in base al testo presente in esso quindi se il testo è costituito da una sola parola la colonna sarà più stretta se invece il testo sarà più lungo questa colonna si adatterà e sarà più grande facciamo qualche altro esempio pratico dobbiamo realizzare un layout del genere dove abbiamo una colonna che è posizionata in alto una al centro e una in basso tutta questa roba qui deve essere anche responsive e deve riadattarsi anche in altezza quindi con bootstrap 3 sarebbe un po' più complicato da gestire con bootstrap 4 e flexbox abbiamo la possibilità di utilizzare queste classi che mi permettono di allineare gli elementi tipo align self start align self center e align self end quindi allinea in base al cross axis inoltre posso utilizzare anche align items end per allineare intere righe sempre in base al cross axis qualche altro esempio pratico abbiamo per esempio in questo caso il content a sinistra la sidebar a destra che sulla versione responsive si devono invertire quindi avremo la sidebar in alto e il content in basso possiamo utilizzare due modalità sia in bootstrap 3 che in bootstrap 4 utilizzare le classi push e pull quindi con push spingo l'elemento di 8 12 verso destra mentre con pull lo tiro di 4 12 verso sinistra però devo invertire fisicamente all'interno dell'html questi due elementi quindi sidebar deve stare prima di content con flexbox posso evitare questa questa cosa utilizzando due classi flex small first quindi decido sempre su quale breakpoint far apparire per primo quell'elemento e su quale classe farlo apparire dopo dobbiamo invece realizzare un template del genere quindi avere delle colonne e degli spazi vuoti tra una colonna e l'altra sempre bootstrap 3 già ci metteva a disposizione la classe offset small 4 per esempio in questo caso che crea un margine pari a 4 dodicesimi quindi crea uno spazio vuoto tra una colonna e l'altra utilizzando flexbox invece ho la possibilità di applicare delle classi direttamente sulle raw e non più sul singolo elemento posso giustificare cioè utilizzare justify content between per creare uno spazio vuoto tra una colonna e l'altra justify content around che crea uno spazio che poi verrà ripartito in automatico tra una colonna e l'altra o justify content center che mi permette di centrare una colonna o più colonne a partire dal centro dall'inizio o dalla fine come vi dicevo tutto questo è possibile grazie a flexbox flexbox per chi non lo sapesse non è un plugin javascript né un framework css né una proprietà singola css è un modulo css3 costituito da circa 13 proprietà ed è basato su direzioni flexflow invece che posizioni line o block sta stamattina già ne avete sentito parlare questa è una schermata ripresa dal sito v3c dove viene mostrato che l'elemento flex che viene attivato dalla proprietà display flex si basa su due elementi fondamentalmente flex container e gli items quindi con flex container ho la possibilità di far occupare in maniera flessibile il mio contenitore e per gli items invece di stabilire una dimensione automatica in base allo spazio disponibile quindi cosa possiamo fare attraverso flexbox quello che avviene su bootstrap è semplicemente una traduzione in classi presentazionali di quello che in realtà possiamo fare da css con il modulo flexbox quindi possiamo centrare in orizzontale e verticale gli elementi margini automatici colonne ad altezza uguale oppure modificare da css l'ordine degli elementi nella pagina possiamo già utilizzarlo perché la compatibilità è allineata sui browser presenti sul mercato ma se vi trovate a lavorare su progetti come siti o pannelli di amministrazione per la pubblica amministrazione o banche vi troverete a scontrarvi con questo signore qui quindi purtroppo utilizzare anche bootstrap così preso e scaricato e inserito nella pagina è impossibile a meno che non andiamo a utilizzare qualche fallback nel codice utilizzando per esempio display table che verrà letto e sarà compatibile con internet explorer rotto e table sell per quanto riguarda le colonne invece come vi accennavo all'inizio di questo talk ho la possibilità di utilizzare bootstrap di utilizzare SAS e possiamo utilizzarlo sia per stilizzare in modo avanzato il framework di base il source code sia per evitare di utilizzare tutte le classi presentazionali dobbiamo individuare tre classi tre file variables custom e bootstrap .scss all'interno di bootstrap scss vengono fatti degli import a partial posso decidere che cosa inserire all'interno del framework e che cosa escludere quindi se ho bisogno essenzialmente solo della griglia faccio così per dire escludo tutti i plug-in tutti i tooltip tutti i carousel eccetera eccetera e magari posso anche importare una partial personalizzata con variables scss invece posso apportare delle modifiche all'intero framework ma non lo faccio direttamente su quel file lo faccio su custom scss che è presente già all'interno del source code in custom vado a importare le variabili presenti in variables elimino default e poi le utilizzo per stilizzare qual è la comodità che se magari aggiornano il framework voi avete sempre la possibilità di tornare indietro e quindi avete anche la possibilità di non utilizzare un css esterno ma fare tutto all'interno del source code di bootstrap come facciamo invece a utilizzare la semantica ma a rendere il nostro codice HTML semantico utilizzare delle classi semantiche piuttosto che classi presentazionali innanzitutto vado a rimuovere tutte le classi presentazionali all'interno del codice le sostituisco con delle classi semantiche e poi posso utilizzare sia la direttiva extend quindi faccio extend row per main che rappresenta in questo caso la mia row sidebar che rappresenta in questo caso una colonna oppure posso utilizzare una soluzione più raffinata attraverso i mixing creati dal team di bootstrap quindi in questo caso sto realizzando una colonna attraverso il mixing make call dove vado a definire 4 che sta per 4 dodicesimi e 12 che sta per la dimensione totale della row che anche in questo caso potrei andare a ridefinire quindi potrebbe essere una dimensione totale 12 13 14 quello che volete stesso discorso per le media query che posso creare direttamente all'interno del file sas con media breakpoint between e definire un range in questo caso tra xs e small quindi qual è l'approccio migliore da utilizzare quello che utilizzo io di solito è bootstrap con classi presentazionali per realizzare mockup dashboard tra virgolette e piccoli progetti invece bootstrap con classi semantiche per progetti più ampi quando possibile in effetti evito anche l'utilizzo di bootstrap questo perché oggi esiste viene utilizzato viene utilizzato purtroppo anche ampiamente viene utilizzato anche per nella pubblica amministrazione c'è un progetto che si chiama linee guida e agid che utilizza bootstrap 3 che è insomma è diventato un bel problema da gestire quindi se proprio dovete utilizzare bootstrap meglio iniziare a usare oggi bootstrap 4 almeno avete la proprietà display flex piuttosto che float che come sappiamo generano una serie di problemi quindi guardiamo al futuro guardiamo al grid layout per la costruzione del layout magari insieme a flexbox per il comportamento degli elementi in ogni area quindi quello che mi sento di dire è che dobbiamo già oggi cercare di fare a meno di bootstrap per i nostri progetti perché un giorno potrebbe fare la fine di flash quindi iniziamo a studiare grid layout e flexbox grazie a tutti in conclusione ho sentito che bootstrap 5 avrà delle classi presentazionali basate su grid layout grazie 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 grazie